Sta partendo un programma su Rai 5, ho proposto a Magnovia un programma che era una versione molto diversa dal mediamento, facciamo solo un altro cogema, ma completamente diverso, poi non è passato. Non c'è da parte dei dirigenti, delle televisioni in generale, un'attenzione verso un mondo che probabilmente conoscono poco. Non è partita dall'alto questa rivoluzione perché probabilmente non è stata fortemente richiesta neanche dal basso.